Non deve essere un fastidio, ma un'opportunità da sfruttare al meglio. Lo scorso anno per il pescare la Coppa Italia finì troppo presto e in malo modo. K.O. agli ottavi al Bonolis di Teramo. Forse troppi cambi, un portiere al debutto, Radaelli, al sesto della ripresa. Il gol partita nelle immagini di Federico Viero. Per carità la strada è lunga e irta di insidie, ma vincere la Coppa Italia permetterebbe di accedere direttamente alla fase nazionale dei play-off per la promozione in Serie B. Prima avversaria la Vis Pesaro, domani ore 18, stadio Adriatico Giovanni Cornacca. Indisponibili Crescenzi e Vergani, che tuttavia sta recuperando dal problema la schiena. Sabato a Potenza l'ex Inter ci sarà. Turnover corposo, certo l'esordio di Sommariva e De Marino. Previsto uno scampolo di gara per Aloy e Crecco, che torna in campo dopo oltre cinque mesi dal grave infortunio alla rotula. Ecco il probabile undici. Sommariva Trepali, in difesa Sacani, Brosco, Ingrosso e De Marino. A centrocampo Jabua, che salterà la sfida di Potenza per la squalifica, Palmiero e Germinario. Davanti Colai e Dele Monache a supporto di Tupta. Lo slovacco sarà dunque impiegato nel ruolo probabilmente a lui più congeniale, quello di punta centrale. Per contro la Vis Pesaro, che milita nel girone B del torneo di Serie C. In campionato finora nove punti per la squadra di Sassarini, che ha subito una sola sconfitta in casa nel match con Lancona. 0-3 dello scorso 24 settembre. In trasferta vinse ancora in battuta una vittoria a Olbia e tre pareggi. Nell'ultimo precedente, gara amichevole dello scorso 28 agosto, il Pescara ha prevalso all'Adriatico 2-1. Marcatori, Lescano, Pellacani e Fedato sul calcio di rigore. Assenti i difensori Bacca, Ioco e Cusumano, il centrocampista di Paola. Dubbio Cannabò in attacco. Potrebbe sordire il 21enne Thomas Sosa, figlio di Roberto El Pampa, ex Udinese e Napoli. Gara secca in caso di parità nel numero di reti segnate al novantesimo, supplementari ed eventuali calci di rigore. Chi passa affronterà al secondo turno sempre in gara secca, la vincente della sfida, Gubbio Recanatese.